C'è bisogno di migliorare la qualità dei servizi sanitari ed ospedalieri del nostro territorio e ciò deve avvenire anche dall'abbattimento delle spese inutili, dall'eliminazione di sprechi e di inefficienze, esternalizzazioni e convenzionamenti, dal potenziamento della rete dei servizi territoriali, della valorizzazione del personale e delle competenze, ma soprattutto da una migliore e sana programmazione della spesa sanitaria. Per questo motivo la CISL Funzione Pubblica ha riunito gli stati generali della sanità della provincia di Messina, circa 80 dirigenti sindacali di tutte le aziende sanitarie del territorio, dalle ASPE e le aziende ospedaliere pubbliche e private. La CISL intende così partire da un'indagine che metta in primo piano come la partecipazione alle scelte sulle problematiche relative alla salute sia un diritto dovere del cittadino. L'indagine verrà realizzata attraverso la somministrazione di un questionario composto da domande riguardanti la percezione della qualità dei servizi distrettuali ed ospedalieri del nostro territorio. Un questionario che proponiamo a tutti i cittadini che chiedono servizi sanitarie per fare il punto della situazione e comunque uscire poi con delle proposte, come fa, come il suo solito fare la CISL, con delle proposte che porteremo ai tavoli istituzionali di confronto per migliorare qualità e livelli di servizi sul territorio. Partendo da questo si può dare un contributo per il miglioramento dei servizi e soprattutto per come noi riteniamo debba essere offerto il servizio della sanità nel nostro territorio, noi abbiamo bisogno di eliminare quanto più possibile gli sprechi e trasferire queste risorse sulla salute, sulla tutela della salute dei cittadini. Grazie. 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 Grazie.